Questo programma è offerto da Sportit.com Carissimi amici di Italian Fishing TV, ben trovati per questa nuova puntata di PhotoFish. Oggi mi trovo a Senigallia. Una giornata caldissima ma molto ventilata mi accompagnerà durante questa registrazione. Prima di cominciare con la nostra top 5 io vi ricordo che il partner ufficiale di PhotoFish è Sportit.com Il vostro riferimento online per quanto riguarda gli articoli per lo sport è naturalmente la pesca. Io sono pronta a svelarvi la nostra top 5 e apre in quinta posizione il bellissimo scatto che mi ha inviato Matteo. In quarta posizione troviamo lo scatto che mi ha inviato Giuseppe con la sua super cattura. Tagliamo sulla terza piazza del podio e a vincere la medaglia di bronzo è un'altra super cattura. Questo scatto invece me lo ha inviato Hamza. Ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è un'altra super cattura. Ad inviarmi questo scatto è stato Carlo che è stato immortalato con un bellissimo esemplare di luccio. Siamo giunti sul gradino più alto del podio e ad aggiudicarsi la medaglia d'oro e lo scatto che mi ha inviato Gabriela. Quando ho visto questo tenerissimo scatto che ricorda il senso amorevole della famiglia non ho potuto fare a meno che portarlo sul gradino più alto del podio. Complimenti a questo papà con la sua bambina. Come ogni puntata io vi ringrazio per gli scatti che ci inviate. Continuate a farlo sempre e vi ricordo che i vostri scatti li potete sempre visualizzare nel profilo Instagram di Italian Fishing TV. Visto che ancora non sono volata via con il vento a me non resta che salutarti. Vi rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata di Photo Fish e rimanete sintonizzati sul nostro canale. Ciao! Ciao!